Ben trovato in appuntamento con l'informazione, l'apertura la dedichiamo ai problemi legati allo sviluppo economico della provincia che per alcuni è legato e soprattutto ingessato dal piano paesaggistico e fa discutere la presa di posizione da parte dell'Associazione Nazionale dei Costruttori della provincia e c'è quindi chi esorta i sindaci a chiedere la revisione del piano paesaggistico perché altrimenti sarà il tracollo economico e sociale del territorio. Altri invece che sostengono che non sia così. Fa discutere la presa di posizione dell'Associazione dei Costruttori Edili di Siracusa che ha chiesto al sindaco di intervenire per evitare che il piano paesaggistico continui a ingessare il territorio e bloccare le iniziative imprenditoriali. Chi si dice d'accordo con l'iniziativa di Ance Siracusa è il parlamentare della Lega Giovanni Cafeo per il quale i sindaci devono rivedere i piani paesaggistici per evitare il declino economico e sociale delle comunità con perdita di investitori e risorse. È evidente che sotto l'oscura del piano paesaggistico siano già caduti milioni di euro di potenziali investimenti, ricorda Cafeo, fatti fuggire grazie alla pervicacia di chi fraintende la necessaria tutela del territorio con il suo sfruttamento. Peraltro è già ampiamente avvenuto a Siracusa negli anni 70. Diversamente da allora però oggi esistono norme già molto stringenti ma soprattutto numerose possibilità di costruire rispettando l'ambiente e i tre pilastri della sostenibilità ossia quella sociale ed economica oltre a quella ambientale senza la necessità di imballare un territorio. Per questo la richiesta ai sindaci di attivarsi per promuovere la revisione del piano paesaggistico includendo nel confronto anche le associazioni ambientaliste del territorio. Di parere diametralmente opposto è Fabio Morreale responsabile di Natura Sicula. Il piano paesaggistico provinciale non ingesse il territorio ma lo fa sviluppare in modo sostenibile. Le aree costiere del Plemmilio, di Ognina, Fontane Bianche e dell'Isola di Capopassaro si stanno salvando dal cemento e dalla speculazione grazie ai vincoli di tutela del piano paesaggistico provinciale, quelli che ovviamente non stanno bene a quella parte dell'associazione nazionale costruttori edili che vorrebbe tornare al passato. Morreale ricorda che gli ambientalisti non vogliono mummificazione del territorio ma interpretando l'esigenza del momento e studiando gli errori del passato pretendono il rispetto delle regole. Non è possibile, dice Morreale, tollerare l'irrefrenabile voglia di continuare a versare cemento in una città che è cresciuta a dismisura a livello urbanistico malgrado abbia subito una contrazione demografica. Parliamo del treno Freccia Bianca che non arriva alla stazione di Siracusa tagliando fuori la nostra provincia dai collegamenti regionali e nazionali. Questa è la denuncia di ConfCommercio dopo l'inaugurazione del tragitto tra Palermo, Catania e comprende anche Messina. Sentiamo. La circostanza che Trenitalia abbia deciso di estromettere Siracusa dai futuri progetti di sviluppo della rete ferroviare siciliana iniziando dal percorso previsto per il Freccia Bianca che opererà esclusivamente nella tratta Palermo, Catania e Messina ha dell'incredibile e lascia alquanto sgomenti. Parola di Elio Piscitello, presidente di ConfCommercio che ha lamentato la disattenzione di tutto il mondo politico nei confronti del nostro territorio. È un modello di sviluppo che non possiamo accettare, dice. Negli ultimi anni la stazione è stata sempre più depotenziata fino ad arrivare all'odierna, inaccettabile scelta di declassarla di fatto a una stazione secondaria collegata da servizi regionali. Trent'anni fa andare da Siracusa a Roma col treno Intercity occorrevano 10 ore e 55 minuti. Oggi, quando nel resto del paese si parla di alte velocità e di treni Frecciarossa, per percorrere lo stesso tragitto occorrono 11 ore e 2 minuti. Stessa cosa vale per Milano, unica altra tratta a lunga percorrenza ancora attiva. Per una velocità media di percorrenza minora gli 80 km orari. Ancora peggio se si vuole andare da Siracusa a Palermo. Fino a pochi mesi fa il viaggio durava 4 ore e 6 minuti. Oggi lo stesso percorso dura 4 ore e 38 minuti, cioè mezz'ora in più, che rende ancor meno conveniente l'utilizzo di questo mezzo di trasporto. Anche questo, per ConfCommercio, è il frutto della scelta di declassamento della stazione Siracusa. I pochi treni diretti da Siracusa a Palermo sono costretti a seguire un percorso folle. La tratta attuale prevede un doppio passaggio per la stazione di Fontana Nossa, da qui i 30 minuti in più. Tutto ciò ovviamente rappresenta un grave danno per il nostro territorio, dice ancora ConfCommercio, tenuto conto che nella nostra provincia il comparto turistico rappresenta sempre più una parte rilevante del PIL complessivo, che nel settore ricettivo alberghiero attualmente vi sono circa 13.000 posti letto, ovvero quasi il 10% dell'intera offerta siciliana. ConfCommercio Siracusa chiede quindi alla deputazione nazionale e regionale, ai sindaci e ai rappresentanti dei partiti politici presenti nel territorio e a tutte le associazioni di categoria datoriali, oltre che a lavoratori, di mobilitarsi per obbligare i Tranitalia, il Governo regionale e il Governo nazionale a ridiscutere gli obiettivi di sviluppo della mobilità ferroviaria. Sarà convocato un tavolo di confronto con i deputati nazionali e regionali e con le associazioni di categoria per organizzare eventuali iniziative comuni. Anche Articolo 1 ha chiesto al sindaco tale di farsi promotore di un incontro con le forze politiche sindacali, sociali e parlamentari e le ferrovie per capire quale sia il reale futuro delle ferrovie siracusane e del sistema intermodale di questa parte di Sicilia. Proseguono le celebrazioni alla Basilica Santuario Madonna delle Lacrime di Siracusa, tanti fedeli in visita alla nostra città e ospiti soprattutto alla Casa del Pellegrino. Vediamo, vediamo il servizio. La Casa del Pellegrino continua in questi giorni a ospitare fedeli che si regano nel vicino Santuario Basilica della Madonna delle Lacrime per partecipare alle funzioni religiose e agli eventi programmati anche per le prossime settimane. Nonostante l'incomprensibile ostilità dell'amministrazione comunale, fa notare il rettore del Santuario Don Aurelio Russo a proposito della recente sentenza del Tar che dà ragione al Comune per la recessione della Convenzione per la gestione della Casa del Pellegrino, il Santuario registra segnali di ripresa accogliendo piccoli gruppi di pellegrini organizzati. Sin dalle prime settimane di settembre la Basilica Santuario Madonna delle Lacrime ha visto alternarsi iniziative spirituali e comunitarie. Gli incontri regionali delle famiglie del rinnovamento dello spirito, il pellegrinaggio degli ammalati e l'unità alzi della Sicilia orientale, il cammino diocesiano e un neocatecumenale, i gruppi regionali di preghiera a Padre Pio e l'apertura del sinodo nella fase diocesiana rappresentano un piccolo segnale di speranza e di ripresa. Sabato prossimo intanto si celebra la quinta giornata mondiale dei poveri indetta da Papa Francesco sulle parole di Gesù, i poveri li avete sempre con voi. La giornata viene celebrata all'inizio del cammino sinodale, incentrato sull'ascolto e sull'incontro, ascolto che passa anche attraverso tutti i servizi di prossimità che ogni giorno si presentano all'attenzione della comunità diocesiana e delle parrocchie nell'accoglienza e nel conforto di chi è fragile e bisognoso. La Basilica Santuario Madonna delle Lacrime, sottolinea il Rettore, offre attraverso la Casa Carità San Giuseppe un servizio di volontariato che accompagna le famiglie bisognose cercando di venire incontro alle loro necessità quotidiane. Anche in occasione della quinta giornata mondiale dei poveri saranno predisposti due punti di distribuzione per tutta la giornata. La Cappella di Santa Lucia in Basilica e la Casa Carità San Giuseppe posta all'ingresso principale del santuario. L'iniziativa coinvolge tutta la comunità ecclesiale e propone a chi può dare di depositare il proprio contributo portando principalmente cibo per i bambini e a chi è nella necessità di ritirare gli alimenti messi a disposizione delle famiglie bisognose. Intanto il maestro Giorgio Lorefici ha donato al santuario un'opera raffigurante la Madonna delle Lacrime e disegnata su una lastra di lava. Parliamo adesso dell'emergenza Covid perché sono in calo i ricoveri in aumento invece nuovi positivi ma perché tra le altre cose è stato anche aumentato il numero dei tamponi eseguiti nelle ultime ore. Facciamo il punto della situazione. In Sicilia cresce lievemente la curva epidemica ma sono in calo i ricoveri in ospedale. Il dato emerge dal quotidiano bollettino del Ministero della Salute. I nuovi casi di Covid in Sicilia diagnosticati nelle ultime ore superano di poco quota 500 e il dato legato alle record di tamponi processati sono infatti oltre 33.000. Sono invece quasi 400 le persone ricoverate in ospedale in tutta la Sicilia. I nuovi casi nello specifico sono 504, ieri erano 416, con 11 morti ma non in 24 ore ma in diverse giornate. In ospedale ci sono complessivamente quindi 394 persone, un lieve aumento rispetto al dato del giorno precedente, delle quali 346 in area medica e 48 in terapia intensiva in tutta la Sicilia, due in più quindi rispetto all'ultima rilevazione. I tamponi processati sono stati 33.166 e il tasso di positività scende all'1,51% contro il 2,56% di ieri. La Sicilia quindi con i suoi 504 nuovi casi è preceduta dal Veneto con 883, Lombardia 849 e Lazio 773 nuovi casi al Covid. Non è più Catania la provincia con più casi di nuova positività. Stavolta il record è a pannaggio della provincia di Messina con 140 casi, mentre quella di Siracusa si attesta al quarto posto insieme ad Agrigento con 35 nuovi casi. Rimaniamo in tema di Covid perché come sapete non si potrà manifestare nei centri storici con cortei, anche per le vie della città, per esprimere il dissenso consentito invece solo i sit-in, ma vediamo cosa ne pensano le organizzazioni delle manifestazioni che si sono svolte a Siracusa e che sono anche in programma. Arriva una nuova ordinanza ministeriale che vieta di portare avanti manifestazioni con cortei per i centri storici. Sabato 6 novembre c'è stato un corte organizzato da voi, quindi come apprendete questa notizia e cosa avete intenzione di fare per le prossime manifestazioni? La notizia era prevedibilissima perché chiaramente la tenuta sociale è tanto tempo, non dobbiamo pensare solo a Siracusa ma a quello che succede in tutte le piazze italiane. È la misura che va analizzata che è estremamente repressiva e ulteriormente lessiva del pensiero delle minoranze e della libertà di espressione del pensiero. Questa criminalizzazione del dissenso genera dei trattori di opinione, ma non è un problema. Si asseconda il linguaggio del governo, si cambia strategia. Si è parlato anche di innalzamento dei contagi a Siracusa, su Siracusa e provincia, parliamo su 21 comuni della provincia di Siracusa. I dati di ieri parlano di 35 nuovi positivi su 21 comuni, quindi rispetto agli altri dati si nota un aumento o no? Guarda, ci sono state giornate precedenti alla manifestazione con oltre 73 contagi sempre in provincia. In ogni caso voglio dire, stiamo parlando di un'incidenza numerica che è veramente bassa, ma vi voglio fare riflettere su una cosa. Tutti coloro che hanno scelto di non vaccinarsi effettuano tampone, test ogni 48 ore. Quindi il virus c'è, non è che nessuno lo nega, ma stiamo noi rispettando la scelta della gente. Quindi se la gente ha una maggiore affluenza, quindi c'è un innalzamento dei tamponi processati, è probabile che ci sia una scala di ascesa e discesa continua perché è continuamente monitorata. Oggi siamo in grado di fornire al governo, tramite un'imposizione discriminatoria, un costante monitoramento dei non vaccinati, che siccome l'incidenza è molto bassa direi che siamo anche molto più tranquilli. Quindi strumentalizzare che il corteo no green pass incida sull'aumento dei contagi o dire che Siracusa è tra le 10 città più contaminate in Italia per una passeggiata di un'ora che genera un assembramento che è sempre così nella quotidianità della vita, mi sembra criminalizzare il dissenso. I festeggiamenti per gli europei dove vedevano più di 1500 persone su via Catania e Corso Gelone festeggiare, qui viene da fare una riflessione o no? Più che una riflessione abbiamo scientificamente compreso che il virus circola solo dove si manifesta il dissenso. Quindi la scoperta scientifica, vorrei utilizzare l'ironia per dire che se è proprio l'attribuzione, una virgola cambia il senso delle parole, non ho niente da aggiungere al pensiero e alla domanda, perché è così, lì sono immunizzati, qua no. Ecco, rispetto alle nuove regole ministeriali, quindi le manifestazioni qui a Siracusa, come si organizzeranno? Il dissenso continua e la protesta continua, qui si farà anche una scelta tra chi la vuole fare in un modo e in un altro modo, io non posso obbligare nessuno, sicuramente il nostro comitato, la nostra associazione e anche il nostro programma, Movimento di Pensiero, prevede, ha sempre previsto e visto nelle manifestazioni la libertà di espressione, quindi noi continueremo a veicolare. Il nuovo provvedimento ministeriale che vieta le manifestazioni no green pass con cortegli nei centri storici, le motivazioni riguardano i disagi soprattutto ai commercianti e al potenziale aumento dei casi Covid. Abbiamo chiesto ad alcuni negozianti siracusani se effettivamente hanno subito danni in queste giornate in cui si è manifestato a Siracusa. Una nuova ordinanza nazionale vieta i cortei no green pass per le vie delle città italiane, sostengono per l'aumento dei contagi ma anche per i disagi che sono stati arrecati ai commercianti nelle zone dove appunto si sono svolte le manifestazioni. Siamo in Corso Gelone questa mattina per chiedere proprio ai commercianti se si sono sentiti danneggiati o c'è stato un decremento delle vendite al passaggio del corteo no green pass che si è svolto sabato 6 novembre qui a Siracusa. Andiamo a chiedere. Vi siete sentiti danneggiati dal corteo che è passato sabato 6 novembre qui dal Corso Gelone? Non in particolar modo perché è stato breve il passaggio, non è stato lungo, quindi non credo proprio che abbia provocato tutto questo danno. Sabato 6 novembre dal Corso Gelone è passato il corteo no green pass, lei qui è un commerciante della zona, si è sentito danneggiato dal passaggio del corteo? No, personalmente. Ha subito meno vendite per il passaggio, quindi ha subito dei disagi dal corteo? Il corteo è stato passato da qui ma tutto è durato in 20 minuti sì e no, quindi andare a dire che abbiamo avuto problemi per questo no, non direi proprio di no. Se sia giusto o meno, autorizzato o meno, questo non lo so, sapete voi se è tutto ok. Hanno messo in atto una nuova ordinanza che vieta i cortei ma si può manifestare solamente con un sit-in. Dicono per aumento di contagi ma dicono anche per disagi provocati ai commercianti. E' effettivamente così? A noi assolutamente no, abbiamo visto sì che hanno comunque bloccato la strada ma ci sta, però sinceramente io non ho avuto alcun disagio, anzi ho avuto modo di salutare persone che non vedevo da tempo e che mi hanno detto ci vediamo dopo, quindi forse anche qualcosa di buon auspicio anche nei miei confronti, però disagio assolutamente no. L'ordinanza non riguarda solo le vie cittadine per il corteo che si muove appunto per le strade, ma riguarda anche i centri storici, sempre per i disagi che una manifestazione può provocare ai commercianti e appunto è al blocco dei centri storici, ma andiamo a chiedere anche in questa zona. Siamo in un'attività commerciale qui nel centro storico di Ortigia a Siracusa, settimane fa c'è stata qua vicino al Tempio d'Apollo una manifestazione no green pass, parliamo con appunto un commerciante della zona di Ortigia e chiediamo lei ha avuto qualche difficoltà oppure un decremento delle vendite? No, rispetto agli altri giorni no, non ho avuto nessun incremento delle vendite, non c'è stata nessuna differenza, perché veramente ha un periodo che si sta lavorando poco. No, non abbiamo avuto nessun tipo di disagio, anche se comunque già la situazione in generale è un po' così, già da prima, covid, la crisi, quindi... La manifestazione diciamo non ha incrementato il disagio qui nel centro storico? No, per noi no. La manifestazione no green pass che si è svolta qui in largo 25 luglio, siamo al Tempio d'Apollo, lei ha proprio la sua attività qui, le ha creato disagi? Allora, guardi, a parte la confusione insomma delle persone che hanno partecipato a questa manifestazione, non ho avuto nessun tipo di disagio, anche perché comunque i no green pass si sono comportati in maniera abbastanza educata, quindi se devo dire effettivamente se ho avuto cali delle vendite, proprio nel momento in cui della manifestazione no, perché comunque i ragazzi hanno preso il caffè, insomma si sono comportati in modo ordinato, hanno rispettato comunque, posso dire, le regole pure, quindi per me è tutto positivo, insomma. Con questo servizio chiudiamo la prima parte del telegiornale, è stata con noi la seconda parte, con tanta cronaca da vedere insieme, sentiamo soprattutto la pubblicità e poi ci vediamo tra poco. Colazioni da bar, pranzi e cene da ristorante, dessert da pasticceria, ma tutto a casa tua. Dai Glue, vasta scelta di prodotti surgelati, dal pane, primi, secondi e contorni spiziosi. In questo momento in offerta, treccia a vari gusti 50 centesimi, patate a fette e vari tipi 1,20 euro al chilo, panzerotti ripieni 7,50 euro al chilo, merluzzo decapitato 5,90 euro, gambero 10,90 euro, pesce spada 8,50 euro al chilo, calamari 12,90 euro. Meno 20% su tutto il reparto verdure. A Siracusa in Vialetica 109, fai il carico di bontà. Il mondo igloo ti aspetta. Qualità, professionalità e tecnologia sono le caratteristiche che contraddistinguono Physiorem Medical Center, una struttura polidiagnostica con più di 10 anni di esperienza, specializzata in diagnostica radiologica e riabilitazione fisica, che si serve di attrezzature e strumentazioni all'avanguardia. Il sistema di risonanza magnetica OpenMark 5000 rappresenta la nuova generazione di risonanza magnetica a medio campo. Questo sistema combina le elevate prestazioni dell'alto campo con il vantaggio di un'architettura aperta. Questo permette di ridurre sensibilmente la sensazione di ansia del paziente. Dotarci di questo macchinario ci permette di ampliare la domanda di esami diagnostici per quanto riguarda l'osso articolare. Adesso riusciamo a dare anche un'offerta per quanto riguarda la parte neuro. Physiorem Medical Center. La trovi a Siracusa. La vita è la somma delle scelte che decidiamo di fare ogni giorno. Scelte a volte facili, altre meno. Uscire di casa o farsi consegnare l'ordine. Pesce fresco o surgelato. Carne o vegetali. Vino o birra. Alcune di queste scelte ci porteranno a vivere momenti speciali che ricorderemo per sempre. Questi momenti sono fatti della qualità dei dettagli che li compongono. Che tu sia un privato o un utente professionale. Che tu scelga di cucinare per amore o per passione. Scegli Alta Sfera. Eccoci alla seconda parte del telegiornale. Parliamo della truffa nell'ambito della costruzione del centro commerciale ad Epipoli. I pubblici ministeri hanno concluso la requisitoria invocando la condanna nei confronti di cinque imputati e l'assoluzione per altri tre. Per i rappresentanti della pubblica accusa vi sarebbero specifiche responsabilità in capo a cinque degli otto imputati nell'ambito del processo scaturito per le presunte truffe nella realizzazione del centro commerciale di Viale Epipoli. Dopo oltre quattro ore di requisitori, il PM Salvatore Grillo, che con Marco Dragonetti e Stefano Priolo ha coordinato l'intera inchiesta, ha sollecitato al giudice monocratico Salvo Scollo la condanna a sei anni e mezzo di reclusione per Rita Frontino, oltre una multa di 2.500 euro. Tre anni e 1.500 euro di multa per la sorella Daniela. La condanna a due anni e nove mesi è stata chiesta per Davide Venezia, due anni invece per Alfredo Sapienza e un anno e nove mesi per Maria Cimino. I pubblici ministeri hanno anche chiesto il sequestro dei beni per gli imputati, mentre hanno avanzato la richiesta di assoluzione nei confronti di Salvatore Noto, che era il contabile dell'azienda Assunta Di Martino e Graziano Del Grego, amministratori di società che operavano nell'ambito del gruppo Frontino. Nel corso del requisitore il PM Grillo ha illustrato l'architettura accusatoria che ruota attorno all'azienda MA, che tra le altre manovre avrebbe trasferito la società RGD in Costa d'Avorio per sottrarsi alle pretese dei creditori e nominando poche ore prima un loro uomo fidato, quale amministratore di una società in grandissime difficoltà economiche, poi peraltro sparito. La prossima settimana si torna in aula per proseguire con la discussione. È stato fissato l'intervento dei legali delle parti civili costituite e di alcuni avvocati della difesa. Si chiude alla fine di novembre con la ring dell'avvocato Mario Fiaccavento, che difende Rita Frontino, principale imputata del processo. La sentenza del processo però non potrà essere emessa fino a quando la Corte d'Appello di Catania non deciderà sulla ricusazione avanzata da uno degli imputati nei confronti del giudice Scollo. Primi interrogatori nell'ambito dell'operazione antidroga che si chiama Coca Drive-In, partata a termine dai poliziotti ad Avola. Sentiamo com'è andata. Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere due coniugi finiti nella rete dei poliziotti nell'ambito dell'operazione antidroga denominata Coca Drive-In. Gianluca Liotta, 48 anni, e Sonia Silvia, di 40 anni, sono comparsi dinanzi al GIP del Tribunale Reduseo Andrea Mignieco per essere sottoposti a interrogatori di garanzia, ma entrambi hanno scelto di fare scena muta. Secondo quanto riscontrato dagli investigatori, con il coordinamento del Pubblico Ministero Gaetano Bono, sarebbe stato Liotta a gestire il traffico di superfacenti sul territorio volese, con la collaborazione della moglie, soprattutto nel periodo di sua detenzione. Gli investigatori sono riusciti a decodificare il linguaggio criptico utilizzato dagli indagati nelle loro conversazioni, riscontrando un giro d'affari di circa 35.000 euro in appena tre mesi. L'inchiesta sul giro di droga è stata avviata dai poliziotti a seguito della denuncia da parte di una donna, preoccupata che il figlio potesse subire ritorsioni per non essere riuscito a onorare il debito con la presunta organizzazione. Gli agenti hanno puntato l'attenzione su alcuni degli indagati, dai quali hanno avuto un riscontro attraverso lo studio delle immagini tratte dalle telecamere di videosorveglianza, grazie alle quali hanno documentato numerosi episodi di distorsione consumate per la riscossione dei crediti vantati. Sarà interrogato invece nelle prossime ore il carrozziero ha ciuffato dei poliziotti della mobile del commissariato di Avola al porto grande di Siracusa, dove era arrivata la nave su cui ha goduto di una crociera nel Mediterraneo. Vendeva merce online senza però mai recapitarla alla compratore, incassava quindi soldi senza colpo ferire e senza corrispondere alla merce acquistata. E' stata denunciata una donna di origini pugliesi e la denuncia è scattata da Pachino. I particolari. I poliziotti del commissariato di Pachino hanno denunciato una donna di origini pugliesi, 35 anni, già nota alle forze di polizia. E' accusata del reatto di truffa online. La donna simulava la vendita di oggetti di abbigliamento sulle piattaforme di un noto social attraverso profilo falso per poi incassare, a mezzo ricarica post-pay, un ingiusto profitto. La vittima è un'altra donna di 24 anni che risiede a Pachino e pagava la merce senza però averla mai ricevuta. Nell'ambito dei servizi sul territorio gli agenti e le volanti hanno controllato un uomo di 39 anni che con fare sospetto si aggirava nei pressi di via Europa, siamo nel capoluogo, nel corso di una prequisizione, nella disponibilità dell'uomo è stata trovata una modica quantità di sostanza stupefacente, in particolare cocaina, ed è stato quindi segnalato all'autorità amministrativa e quindi alla prefettura di Siracusa. Nel tardo pomeriggio i poliziotti e le volanti hanno intercettato a bordo di una moto nei pressi di piazza Cosenza un minore di 16 anni che alla vista della polizia, che gli intimava l'alt, è fuggito. È stato bloccato poco dopo e il giovane è così stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, oltre che sanzionato amministrativamente per le violazioni al codice della strada. Sarebbero di un uomo di 50 anni di età i resti umani ritrovati dai militari del soccorso alpino della Guardia di Finanza in una grotta alle pendici dell'Etna. Il giallo è tutto da scoprire. Resti umani risalenti ad almeno 40 anni fa sono stati trovati dal soccorso alpino della Guardia di Finanza in Nicolosi in una grotta lavica alle pendici dell'Etna. La scoperta è avvenuta nel corso di una delle esercitazioni nel territorio di Zaffranetnea che vede impegnati i finanzieri con le proprietà cinofile. È stato il cane da ricerca e soccorso Alma, un brillante pastore tedesco, a dare l'allarme perché abbaiava e dava evidenti segni di interessamento all'indirizzo di una grotta che è presente nella zona delle operazioni. I militari si sono così concentrati nell'anfratto segnalato dalla cane che si presentava particolarmente stretto e accidentato introducendosi dello stesso anfratto dove hanno trovato i resti umani le cui pessime condizioni hanno da subito fatto capire che il cadavere era lì da moltissimo tempo. I rilievi sono stati effettuati alla sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale dei Carabinieri di Catania mentre i resti sono stati trasportati all'obitore dell'ospedale Cannizzaro. Le fiamme gialle stanno adesso cercando di risalire all'identità dell'uomo morto presumibilmente tra la fine degli anni 70 e gli anni 90 probabilmente in autunno o in inverno. Le prime indagini scientifiche e l'esame del luogo del ritrovamento fanno ipotizzare che si tratti di un uomo di almeno 50 anni alto circa 1,70 m con malformazioni congenite al naso e alla bocca. Sembra che l'uomo si sia introdotto volontariamente nell'anfratto altrimenti difficilmente accessibile e che sia morto per cause non violente. Indossava pantaloni lunghi e scuri, una camicia chiara a righe, un leggero maglione di lana, una cravatta nera, una mantellina di nylon verde scuro, un cappello di lana con pompon e degli scarponcini pivetta numero 41. Rivenuta anche delle monete metalliche del vecchio conio e al polso un orologio omega con centurino in tela che aveva al seguito un pettine con custodia. Eventuali segnalazioni di persone scomparse in quel periodo possono essere fatte al comando provinciale della Guardia di Finanza di Catania. Torniamo nella nostra costa, il litorale siracusano, perché all'Arenella, ex Lido e la polizia, alcuni residenti hanno rinvenuto due tartarughe marine, una delle quali morta, l'altra invece è ferita da un amo che è stata salvata adesso, presa in custodia dalla capitale di riporto. Due tartarughe caretta caretta sono state rinvenute da alcuni residenti lungo la spiaggia del Lido della Polizia all'Arenella. Uno dei due esemplari della specie protetta era morto, mentre la seconda tartaruga si era ferita con un amo che la teneva ancora imprigionata in un groviglio di rami e di cordame. È stata liberata e poi affidata alle cure della biologa del WWF, Ileana Parato. Il comandante della stazione di Cassibile ha monitorato la vicenda e ha atteso che arrivassero i militari della Capitaneria di Porto che l'ha presa in consegna. Siamo benvenuti qua e questo però, come si dice, è servito a salvare la vita ad una bellissima tartarughina caretta caretta, giovane, anche che era impigliata, attaccata con l'amo. E adesso poi, grazie a Giorgio, grazie a Peppe, grazie a Guardia Costiera, sono tutti i carabini, ovviamente sta povera tartarughina si spera. Forse si salva. Forse, no, speriamo dai. Dai, speriamo. Dai, si salva, si salva, dai. Ormai dopo tutto questo traffico si salverà sicuramente. Comunque è stata commovente la mobilitazione che c'è stata attorno a questa cosa perché ha evidenziato il valore che si dà alla vita di queste realtà che rischiano l'estinzione se non vengono accolte, non vengono curate. E ci ha commosso questa sensibilità di tutte queste persone che ci hanno commosso. Parliamo di Amianto, c'è stato il confronto tra il Presidente Bonanni dell'Ona e il Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, che sta studiando un intervento normativo sulla drammatica situazione dell'Amianto in Italia. Da Ona anche l'appello ad una più equa soluzione del caso delle industrie meccaniche siciliane di Siracusa. Il Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha incontrato il Presidente dell'Osservatorio Nazionale Amianto, Ezio Bonanni, affiancato dal coordinatore Ona per la Regione Sicilia, Calogero Vicario, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria meccanica siciliana di Siracusa, che sono in costante mobilitazione dall'estate dello scorso anno. Il Presidente ha esposto al Ministro, che ha mostrato attenzione e sensibilità alla drammatica situazione del rischio amianto in Italia, anche a causa della pandemia Covid, ed ha chiesto che per rimuovere l'amianto dagli edifici privati siano sanciti strumenti premiali per le imprese che innovano in sicurezza con modulazione del premio INAIL in relazione agli standard raggiunti, credito di imposta e risorse del Recovery Fund per le bonifiche e bonus fiscali del 110%. Si è soffermato ad esporre il caso emblematico dei lavoratori delle industrie meccaniche siciliane del SIN di Siracusa, ai quali, nonostante l'esposizione ad amianto e ad altri cancerogeni, la Corte di Appello di Catania, in riforma della sentenza del Tribunale di Siracusa, che aveva riconosciuto ai benefici contributivi per l'esposizione alla fibra killer, ha negato il diritto alla pensione, giudizio ora affidato alla Suprema Corte di Cassazione. Sia Bonanni sia Vicario si sono appellati al Ministro chiedendo che la problematica possa essere risolta con un decreto ad hoc che tuteli i lavoratori. Sono vicino alle vittime dell'amianto e alle loro famiglie, faremo tutto quanto nella nostra possibilità per la bonifica dei siti, la loro messa in sicurezza e per la tutela dei diritti delle vittime e dei lavoratori esposti, ha dichiarato il Ministro nel sottolineare di essersi già attivato a studiare uno specifico intervento normativo da inserire nella prossima legge finanziaria. La condizione dell'arma amianto in Sicilia è stata certificata anche dall'ex Ministro dell'Ambiente, il generale Sergio Costa, che ha più volte visitato i territori, in particolare Augusta, e dal Renam che, per quanto riguarda i mesoteliomi, stabilisce che la regione ha un'incidenza del 5,3% su base nazionale. Il Presidente Lona ha comunque voluto esporre anche un ampio quadro della situazione italiana con i dati di immobilità e di mortalità delle malattie da asbesto, correlate, provocate dall'esposizione all'emianto, che solo nel 2020 ha causato il decesso di 7.000 persone nel nostro Paese. Ricordiamo che per quanto riguarda lo sport c'è l'Ortigia, quindi pallanuoto impegnata in trasferta a partite di ritorno dei quarti di finale della Euro Cup, di cui vedremo conto nel telegiornale della sera. Per quanto ci riguarda adesso, la linea va al meteo. Un saluto e ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì l'Italia continuerà ad essere disturbata da questo vortice ciclonico che insiste ormai da diversi giorni sul Mediterraneo occidentale, determinando ancora una situazione di instabilità in modo particolare tra le isole maggiori e i versanti tirrenici. Notiamo infatti nel dettaglio delle precipitazioni come sempre le isole maggiori continueranno ad essere interessate da precipitazioni localmente di forte intensità, soprattutto nelle prime ore del giorno sulla Sicilia, mentre la situazione andrà leggermente migliorando sulla Sardegna, qualche pioggia attesa anche al nord-ovest. Più nel dettaglio della grafica dell'Italia, infatti notiamo come il nostro Paese si ha le prese con nuvolosità irregolare, piogge più frequenti sulla Sicilia a inizio giornata, ma poi anche sui versanti tirrenici del centro, ma anche al nord-ovest non esclusa qualche goccia di pioggia, specie sul Piemonte. Maggiori spazi soleggiati sull'arco alpino e al nord-est, così come sul basso versante adriatico. Nuvolosità è bassa invece che continuerà a insistere tra la Romagna, le Marche e l'Abruzzo, con qualche goccia di pioggia anche qui non esclusa, clima ventoso un po' su tutti i mari. Per maggiori dettagli consultate l'app di Trebi Meteo. Con le previsioni meteo si guida questa edizione del telegiornale, vi ringraziamo per averci seguito fin qui, appuntamento alle prossime edizioni, arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.